Braccio armato della legge, i miei coglioni! Beh, sarò del cazzo di fartarti in giro! Addio, dolce principe della corruzione! What the fuck? Ma... Sono tornato, cazzo! Sono da rock! Ma questo è un fake! Ma che fake è fake! So Jimmy quello vero! Ma... Uè, ci vuoi che la mia caffè? Guardi la finestra che fa freddo! Aspetta che avevo perso la pancia! Una voletà, ma io la cucina buona! Ma questo non traggio alla persona! Ma che sta roba? Alcuni turisti argentini stanno facendo un'escursione in un bosco del Nord America Ma questo è un fake! Quando in lontananza avvistano una strana figura Improvvisamente la figura si alza È un ognomo armato di ascia Che comincia a inseguire i turisti che scappano terrorizzati Mi ricordano che avevi 70 Smettetelo di imitarmi! Non è possibile! Ma che cosa che ci bisogna dire? Ma che cosa che ci sono? Ma che cosa... Ma che cosa... Allarme intruso, allarme intruso, stiamo inviando una squadra di scimmial troppo morte addestrate dal presidente del Kazakhstan in persona per neutralizzare l'intruso. Troverete il vostro kit di sopravvivenza sopra le vostre scrivanie. Questo è troppo! Nel vostro kit troverete cibo, viveri, libri di barbara, durso, listele e preservativo. Ma da quanto cazzo non puliscono questa stanza? E così anche dietro a questa società ci stanno i gemplari. Che pezzi di merda! Attento a come parli, escremento! Bastardo! Vi ho venduto l'anima e l'ano! Affinché tutelaste la mia immagine! Ma l'avete sventuta sulla pubblica piazza! Rivoglio la mia immagine! Mi fai ridere Jimmy! Non sei mai stato altro che una brutta copia di te stesso! Ed ora sei nostro! NOSTRO! No! No! No, no, no! No, no, no! No! No, no, no! No! Non mi fai ridendo questo passo. Hai sparito con lo stronzo. Sì, sì. Sì, 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 sì. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Io sono gemello siabese di me stesso.